Il Comitato Scientifico dell'Associazione Cuore Amico Onlus ha stabilito quali saranno i nuovi casi della 14esima edizione. La gara di solidarietà promossa dall'Associazione preseduta dal regista Edoardo Winsberg e da Paolo Pagliaro entra così nel vivo pronta ad inaugurare il 2015, aiutando concretamente con il sostegno dei Salentini 13 nuovi bambini e le loro famiglie. Alla riunione hanno preso parte come sempre i garanti, i rappresentanti delle ASL, degli enti, chiamati a valutare caso per caso le patologie, le difficoltà economiche in cui si trovano le famiglie, l'entità economica delle cure e delle trasferte. I parametri sono diversi ma precisi e ogni caso viene valutato in maniera scientifica. Abbiamo attentamente esaminato come al solito le caratteristiche di ogni caso, i bisogni presenti per poi valutare gli interventi più idonei e più adeguati. Il cuore amico continua sempre e vivo sempre tutto l'anno, quindi successivamente dopo la diretta del 6 gennaio e dopo l'apertura dei nuovi salvadanai potremo poi valutare gli altri casi che per il momento abbiamo esaminato e tenuto in sospesso in un ordine di priorità e di gravità. Ci aspettiamo in questa diretta del 6 gennaio estrema solidarietà da parte di tutti i cittadini affinché appunto i bisogni e le necessità rappresentate possano essere accolte e sostenute tutto. Cuore amico ormai da qualche anno coinvolge anche la provincia di Brindisi e alcuni dei bambini arrivano da Francavilla Fontana, Torre Santa Susanna, 13 in tutto per i quali è stato deliberato un contributo economico e 3 autoattrezzate. I bimbi sono Federica, 2 anni, di lizzanello con una cisti ossea, Michela, 11 anni, di galatone con la sindrome di Turner, Federico, 3 anni, di lecce con distrofia muscolare e ancora Martina, 16 anni, di novoli con una angiomatosi cerebrale, Samuel, 6 anni, di taurisano con una neurofibromatosi. Le due sorelline, Giulia e Laura, di parabita, i fratelli Federica, Maria Teresa e Umberto, di 9, 12 e un anno, di Francavilla Fontana, Maria Carmela, 7 anni, di Torre Santa Susanna, Aurora, 3 anni, anche lei, di Torre Santa Susanna e infine Alessio. Per loro il Salento è chiamato ad una gara di solidarietà che avrà il suo culmine su Telerama con la diretta non stop del 6 gennaio. Grazie. 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 Grazie.